Sabato 29, domenica 30 e lunedì 1 maggio tornano i vini passiti a Volta Mantovana. Un percorso sensoriale intorno al mondo con eccellenti abbinamenti e degustazioni. Scoprite la storia che ancora vive fra le mura di Volta Mantovana. Mostra nazionale vini passiti e da meditazione. Un magico viaggio nel gusto e nel passato. Grazie.